Al via a Mascali la seconda fase della raccolta differenziata con l'avvio nelle tre frazioni collinari di Santa Venera, Portosalvo e Tagliaborse. Questa mattina la ditta che è in appalto il servizio ecologico nel comune mascalese ha proceduto alla rimozione dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti generici e indifferenziati. I cittadini delle tre borgate nel quadro del nuovo servizio ecologico, nel pieno rispetto dell'eco-calendario che è stato distribuito anche ai residenti delle frazioni, potranno utilizzare le diverse postazioni ecologiche costituite da una batteria di cassonetti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, plastica, vetro e cartone, nel chiaro intento di ottimizzare la raccolta differenziata non solo a Mascali Centro ma anche nelle diverse frazioni. Questa mattina nei luoghi in cui sono stati rimossi i cassonetti si è recato anche il sindaco Luigi Messina per verificare di persona l'andamento dei lavori a cura dell'impresa ecologica che è in appalto il servizio.